La giornata di oggi, organizzata dal Comune di Mantova, che ha coinvolto diverse realtà del territorio, associazioni, ma per quanto ci riguarda realtà scolastiche, quindi nel nostro caso il liceo coreutico Isabella d'Este, ci ha permesso di far vivere ai ragazzi i luoghi della città. Noi abbiamo scelto Piazza Mantegna, Piazza Erbe, la Loggia del Grano, tutti i luoghi che hanno preso vita grazie alla danza delle nostre cinque classi del liceo coreutico. Hanno danzato dalla seconda alla quinta, guidati da tutti i docenti delle discipline coreutiche. Abbiamo esplorato sia la danza classica che la danza contemporanea, ovviamente adattandola ai vari contesti e abbiamo quindi permesso ai ragazzi di danzare simultaneamente anche con altre scuole. Quindi l'obiettivo di questa giornata del Comune di Mantova, quindi di permettere l'incontro tra i giovani, direi che è stato pienamente raggiunto. Una giornata importante in cui i giovani sono i protagonisti e alla bellezza della nostra città, delle nostre piazze, si aggiunge la bellezza delle performance dei nostri ragazzi. I laboratori delle scuole che diventano performance per i cittadini, che diventano un palcoscenico a cielo aperto, ma non solo, anche l'incontro tra le scuole e gli studenti con i cittadini, con le istituzioni, con le associazioni giovanili della nostra città. È un appuntamento importante che speriamo possa diventare un appuntamento annuale, in cui appunto i ragazzi possono tornare a quella socialità, diciamo che è un po' nascosta dai soci oggi così tanto usati, ma che oggi hanno l'opportunità anche di essere protagonisti di un sabato della città di Mantova. Sperimentate i tipi di contatto. Sì, sono un testo. Sì, sono un testo. Sì, sono un testo. Sperimentate la città di Mantova, Teatro Magro, e per questa iniziativa abbiamo voluto mettere insieme vari studenti delle scuole in cui lavoriamo con i progetti teatrali, e in particolare le scuole che stanno attivando un triennio di progetto Cariplo Live In, Laboratorio delle Arti Interpretative dal vivo. Quindi questa è un'occasione in cui abbiamo portato i nostri studenti a fare arte e teatro dal vivo. È una lezione aperta nel senso che loro sanno di venire a fare una lezione di teatro in piazza e non sanno che cosa faranno. Quindi vengono condotti dai loro operatori e non, comunque colleghi di teatro magro, che li portano in questi 30 minuti a svolgere alcuni esercizi più classici o più performativi delle tecniche teatrali. Non credo nel destino, fa il culo all'indovino, diario di volo di un pirata vagabondo, il cazzo sotto a pelle racconta buone avventure, eri dimenticate dallo scrittore. 18 sulla carta, sai non conta tanto a volte, quando il peso della vita riduce le spalle storte. Ho avuto ossa rotte, gamba cranio e non solo, ho avuto anche la forza di ricompormi da solo. Poi venne la droga a rubinarci d'estate, come una lieta troia che ti chiede restate. Io non le ho risposto, restandosi sull'attenti, mentre gli altri ora sono i suoi preferiti clienti. I mesi scorsi abbiamo organizzato il Bars Academy, che era un laboratorio di scrittura creativa dedicato a giovani e meno giovani. Quest'oggi abbiamo l'opportunità di essere qui, presenti in Piazza Mantegna. I ragazzi possono dimostrare alla cittadinanza di Mantova il loro lavoro e l'impegno che ci hanno messo per arrivare a questo punto. Sono tutti quanti bravissimi e non possiamo che ringraziare il Comune di Mantova per questa grandiosa opportunità che ci ha concesso. Oggi è una giornata dedicata all'arte in giro per Mantua. L'Arcitom è la casa in cui noi ci alleniamo e teniamo i corsi e ci hanno lasciato la possibilità di creare questo spazio dove noi diamo la nostra struttura e facciamo acrobatica aerea. Non facciamo solo questo, perché più o meno una volta al mese abbiamo anche una giornata in cui facciamo questa festa dedicata a chi pratica tessuti, corda, ma anche acroyoga o giocoleria. quando dopo un po' di tempo che ti abitui, tu là su sei libero. Sei tu, il tuo corpo e il tuo attrezzo e l'aria. Grazie. L'Università degli Studi di Brescia propone un desco informativo per i corsi che sono presenti proprio in città a Mantua sia della Facoltà di Economia che delle classi delle professioni sanitarie che sono o all'interno dell'ospedale Carlo Poma o nel quartiere di Lunetta. La giornata di oggi si conclude anche con un evento, con un convegno che ha aperto sia ai ragazzi che ai genitori proprio per indicare loro le strade per orientarsi nel futuro della scelta dell'università e della professione. Abbiamo 47 studenti, redattori, quindi giornalisti, abbiamo informatici, abbiamo illustratori, abbiamo grafici, abbiamo responsabili della comunicazione. Siamo diventati una vera e propria redazione che ieri addirittura è andata a trovare il fatto quotidiano con cui abbiamo iniziato a collaborare. Siamo qua oggi per mostrare quello che stiamo facendo, poiché abbiamo anche una sezione molto creativa, ci sembrava giusto essere qua anche alla giornata dell'arte, come creativi. Quindi abbiamo stampato alcuni dei nostri testi scritti dai nostri ragazzi, che sono principalmente poesie e racconti e le illustrazioni fatti dagli stessi ragazzi che sono in mostra sotto la loggia del grano oggi. Abbiamo fatto delle dirette, sì, su Instagram perché il nostro compito oggi è anche quello di raccontare la giornata, raccontando tutti gli aspetti e gli eventi e gli ospiti che oggi sono stati coinvolti in questa iniziativa del Comune, che ringraziamo. Grazie!